le emozioni non hanno mai una fine siamo sempre stati presenti nella vostra vita abbiamo reso la vostra immagine migliore abbiamo ascoltato le vostre parole ci siamo sentiti onorati quando ci avete affidato la vostra immagine siamo stati al vostro fianco per esaudire i vostri desideri ci siamo siamo quasi pronti pronti ad accogliervi e riprendere da dove vi abbiamo lasciato nel frattempo stiamo già lavorando per voi e per la vostra sicurezza